Ciao e benvenuti su Recensione Smart. Io sono Lorenzo Lenti e da oggi faccio parte del team. In questo video andremo a vedere le 5 migliori auto sotto i 20.000 euro. Faccio una premessa prima di iniziare. Dal mio punto di vista nel 2024 un'auto, seppur economica e facente parte di un segmento molto basso come A o B, deve avere dei requisiti. In primis un occhio di riguardo per la sicurezza, sia attiva che passiva. Parliamo quindi di ADAS, sistemi che ci aiutano durante la guida, ma anche di risultati nei crash test, che devono essere perlomeno accettabili. L'utilizzo di tecnologie, telai e soluzioni recenti. E per quanto possibile, ovviamente, un design accattivante, perché anche l'occhio vuole la sua parte, no? Detto ciò, vi ricordo di iscrivervi e di lasciare un like. Ma ora partiamo! Come prima auto ho scelto Dacia Sandero, l'emblema del risparmio a 360 gradi. Ma non rinuncio comunque a un certo stile e soprattutto dopo l'ultimo restyling con questa nuova calandra frontale, va a rendere Sandero ancora più riconoscibile. Abbiamo un motore e un telaio nobili, che derivano direttamente dall'ultima generazione di Clio. Le motorizzazioni disponibili sono varie, ma quella che vi consiglio è sicuramente il 1.3 cilindri a GPL. La combo, prezzo di acquisto e questa motorizzazione rendono veramente Dacia Sandero un'auto molto difficile da battere quando si parla di risparmio a 360 gradi, pur mantenendo una qualità generale del veicolo molto buona. Abbiamo degli interni decisamente semplici, non spartani, comunque ben curati. Anche l'abitabilità posteriore non è niente male, abbiamo 5 posti completamente sfruttabili e il bagagliaio, tenendo conto del segmento, è piuttosto buono. Abbiamo dei consumi sicuramente non entusiasmanti, ma grazie al GPL riusciamo a venirne fuori. In città facciamo tranquillamente tra i 12 e 13 chilometri con un litro, in extraurbano siamo sui 13-14, mentre invece in autostrada facciamo fatica a superare i 12. Stiamo parlando, ricordate bene, di consumi reali, non quelli dichiarati. Insomma, a chi consiglio Dacia Sandero? Se state cercando un'auto concreta, economica e che soprattutto non vi faccia spendere centinaia di migliaia di euro all'anno per manutenzione e consumi, lei potrebbe essere la scelta giusta. Stiamo parlando di una delle auto più economiche all'istino del 2024. Seconda auto che ho scelto per voi oggi è Toyota iGo X, la regina della città. Toyota iGo X è un'auto veramente compatta, siamo poco sopra i 3,70 metri, che la rendono perfetta per quei parcheggi angusti e quei piccoli spazi che troviamo solo in città. Inoltre abbiamo un motore veramente, veramente amico della City. Infatti troviamo un 1072 cavalli benzina, ed è possibile anche abbinarlo a un cambio automatico rimanendo sempre sotto i 20.000 euro. Che in città è veramente una mana dal cielo, dove bisogna sempre ripartire, fermarsi, ripartire, fermarsi, frizione, gas, frizione, gas, prima, seconda, dimenticatevi tutti questi problemi perché con un cambio automatico siete a posto. Non è da sottovalutare. E infine abbiamo tanta tecnologia e sistemi di sicurezza alla guida di serie, come ad esempio cruise control adattivo, tornata di emergenza automatica per pedoni e ciclisti, oltre che auto, mantenimento della corsia, retrocamera, sensore di parcheggio e tanto altro. Queste caratteristiche vanno a rendere Toyota Aego X, secondo me, l'auto perfetta da comprare, se pensate di utilizzarla principalmente in città. Certo, abbiamo delle cadute di stile, come ad esempio i vetri a compasso nella parte posteriore, che fanno molto anni 2000 e non sono una soluzione proprio ideale. Se poi andiamo a considerare i soli quattro posti e gli evidenti frusci aerodinamici e vari rumori dati dalla scarsa insonorizzazione, andiamo a capire che anche Toyota ha pensato a lei come un'auto prettamente da città. Passiamo ai consumi. Raggiungiamo tranquillamente i 18 km con un litro in città, che sono decisamente un record per questo segmento, soprattutto se teniamo conto che non è un'auto nemmeno ibrida mild. In extraurbano raggiungiamo tranquillamente i 22 con un litro e in autostrada ci assistiamo sui circa 18-19. Devo dire veramente consumi spaziali. E siccome abbiamo parlato di un'auto che non fa dello spazio uno dei suoi punti forti, adesso parliamo di Dacia Jogger, la terza auto che ho scelto per voi. Lei di spazio invece ne ha veramente tanto, soprattutto perché ha una cosa che la rende unica, la possibilità di avere sette posti. Con questo prezzo e in questi segmenti non c'è nessun'altra auto che vi dà questa possibilità. Anche in questo caso abbiamo una motorizzazione a GPL, la stessa di Dacia Sandero, il 1000, tre cilindri, 100 cavalli. Certo, Jogger non fa del design e della sua estetica il suo punto forte, ma la possibilità di avere sette posti o all'occorrenza un grande bagagliaio, secondo me è un valore aggiunto veramente importante. Abbiamo degli interni decisamente semplici, non spartani, comunque ben curati. In generale è un'auto che bada tanto, tanto, tanto al sodo. Per quanto riguarda i consumi, avendo lo stesso motore di Sandero, sono piuttosto simili. C'è da tenere in considerazione che una Dacia Jogger con sette persone dentro e magari pure il bagagliaio carico, beh, non avrà sicuramente le prestazioni piuttosto accettabili della Sandero, né tantomeno i consumi. Abbiamo un consumo di circa 11 km con un litro in città, 12-13 in extraurbano, 10-11 km con un litro in autostrada. A chi consiglio Dacia Jogger? Beh, se state cercando un'auto che vi permetta di trasportare più di 5 persone contemporaneamente o desiderate avere tanto spazio di carico, Dacia Jogger è un'ottima scelta. Se queste non sono due delle vostre principali necessità, vi consiglierei di orientarvi verso qualcos'altro. Passiamo alla penultima auto che ho scelto per voi, Peugeot 208. Fino ad ora abbiamo parlato di auto che per quanto riguarda estetica e look di certo non eccellevano. Lei, ragazzi, è esattamente il contrario di tutte le auto che abbiamo visto fino ad ora. Infatti è un'auto che mette al primo posto la sua estetica. Devo dire molto bella, un design molto particolare. Ci sono tanti richiami al mondo delle hot hatch, seppure non sia un'auto effettivamente sportiva. Se al design accattivante poi ci andiamo a combinare un buon telaio con delle doti di guida piuttosto buone tenendo conto del veicolo, beh, lei vince decisamente il premio di sportivella tra tantissime virgolette per questo video. Perché se poi andiamo a vedere il motore, beh, troviamo un 1.275 cavalli benzina che di certo non fa gridare alle prestazioni e alle performance assurde, ma ci permette di avere degli ottimi consumi. In città riusciamo a fare tranquillamente i 15 con un litro, niente male. In extraurbano non è difficile arrivare a circa 20 chilometri con un litro e in autostrada i 18-19 sono facilmente raggiungibili, quindi devo dire veramente niente male. Attenzione però che l'estetica accattivante di quest'auto si porta con sé degli svantaggi, tra cui l'abitabilità posteriore che non è proprio il massimo e stesso discorso la capacità del bagagliaio. Ci sono auto simili, come ad esempio la Sandero, che fanno molto meglio. In conclusione, a chi consiglio questa Peugeot 208? Beh, a tutte quelle persone alla quale importa avere un'auto con un design e un'estetica accattivante e anche una buona guidabilità. Se poi andiamo a combinare i consumi che sono decisamente buoni, agli interni piuttosto rifiniti e ben curati, Peugeot 208 è proprio un bel prodottino. D'altra parte, se necessitate di un grande bagagliaio e di un ottimo spazio anche per i passeggeri posteriori, non andrei a considerare lei come prima scelta. Come ultima auto ho scelto per voi MG ZS, che mi piace definire come quella che piace un po' a tutti. Perché? Adesso ve lo spiego. In sostanza, tutte le auto che abbiamo visto fino ad ora avevano dei grandi pregi e dei grandi difetti. MG ZS sta un po' lì nel mezzo, non eccelle in nulla, mi permette di fare un po' di tutto a 360 gradi. Partiamo dall'estetica e dal design. Sicuramente MG non è una delle auto più originali che possiamo trovare nel mercato ad oggi, nel 2024. Sono evidenti i vari richiami ad altre auto di marchi molto più blasonate. Ma non è per forza un lato negativo, anzi, a me MG ZS piace e questo mix di cose la va a rendere decisamente un'auto gradevole. Abbiamo degli interni che per il segmento sono veramente ottimi, molto curati, ben rifiniti, infatti troviamo praticamente in ponture ovunque, sedili in ecopelle, display digitale per il guidatore, una plancia piuttosto curata, stesso discorso per la portiera, con queste finiture simil carbonio, insomma, molto look sportivo, che la vanno a rendere praticamente un'auto unica in questo segmento. Non ci sono auto, dal mio punto di vista, con degli interni così curati e rifiniti bene. E poi, ricordiamoci che MG ZS ha delle dimensioni da piccolo SUV. Questo significa tanto spazio, sia per i passeggeri anteriore che quelli posteriori, e tanto bagagliaio. E l'impostazione generale di quest'auto, decisamente volta verso il comfort, grazie anche ad un'insonorizzazione piuttosto buona, rendono MG ZS veramente perfetta per fare lunghi viaggi. Inoltre, MG ZS con il nostro budget di 20.000 euro ve la portate a casa praticamente full optional. A differenza di tutte le altre auto che abbiamo visto in questo video, dove tendenzialmente con 20.000 euro l'allestimento che potete acquistare è quello base. E per concludere questo pacchetto decisamente interessante, troviamo 7 anni di garanzia. avere 7 anni di garanzia sul proprio mezzo sicuramente ci fa acquistare l'auto con più tranquillità e serenità che nel caso dovesse succedere qualcosa siamo coperti. I motori disponibili per questa MG ZS sono due, un 1.5 da 106 cavalli aspirato benzina e un 1.1 turbo da 111 cavalli. Entrambe motorizzazioni piuttosto tranquille volte al comfort più che alla sportività e alle corse. Per quanto riguarda i consumi di questa MG beh, non sono il massimo. In città è facile raggiungere i 10 km con un litro in extraurbano recuperiamo un pochino facendo circa i 13, 14 che comunque non sono bassi e in autostrada 12-13 km con un litro quindi insomma i consumi non sono il suo punto forte. Riassumendo a chi consiglio questa MG ZS? Beh, come abbiamo visto è un pacchetto piuttosto completo che ha una cifra interessante e vi permette di portare a casa un'auto che effettivamente può essere anche l'unica per tutta la famiglia. I pro come abbiamo detto sono tanti abbiamo un grande comfort una grande insonorizzazione e tanto spazio quindi è ottima per i viaggi. Abbiamo un'estetica comunque piacevole e degli interni veramente molto ben rifiniti tanti optional e 7 anni di garanzia. Certo se devo trovare un difetto è sicuramente la guidabilità e le prestazioni che non sono il massimo. Anche i consumi non eccellono. Di questa MG ZS trovate anche una recensione completa sul canale vi basterà cliccare qua in alto a destra. Ed eccoci giunti alla fine di questo video. voi siete d'accordo con le auto che ho scelto? Considerete qualche altra auto con questa cifra? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Detto ciò vi ricordo ancora una volta di iscrivervi e lasciare un like se questo video vi dovesse essere tornato utile. Io sono Lorenzo e da Recensione Smart per oggi è tutto. Ciao!